La scuola e i trasporti marittimi 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 380-902-8137 La scuola e i trasporti marittimi 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 contesta le scelte mancate nel rispetto della mobilità dei cittadini isolani. Procida punta su Palazzo D'Avalos, in vista dell'anno della capitale della cultura, l'amministrazione comunale ha avviato una serie di progetti per la rivalorizzazione architettonica dell'intera area di terra murata. Benvenuti al consueto appuntamento con informazioni di Tereschi. Allora, coronavirus e controlli continuano i servizi dei carabinieri in tutta l'area di Napoli e provincia, volte alla verifica del rispetto dell'enorme anticontaggio. Ieri militari hanno controllato 723 green pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali. Cinque, le sanzioni. A Pozzuoli i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato a piedi libero un 49enne. L'uomo il 6 gennaio era risultato positivo a seguito di un tampone molecolare ed era stato messo in quarantena domiciliare, ma i carabinieri lo hanno trovato a passeggio per le strade di Pozzuoli nonostante il provvedimento emesso dall'ASD per fronteggiare il fenomeno epidemico. E dunque è stata firmata ieri sera l'ordinanza del Presidente della Regione Campania De Luca relativa alla riapertura delle scuole. Fino al 29 gennaio è sospesa l'attività in presenza in campania delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Dunque, diversamente da quando si era paventato nel pomeriggio, le attività si svolgeranno ma con la didattica a distanza e coinvolge anche la scuola dell'infanzia. Per le scuole superiori tutto resta invariato, quindi dal 10 gennaio si torna tra i banchi. La stessa ordinanza, che è la numero 1 del 7 gennaio, vieta il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche anche davanti a parchi ed esercizi commerciali dalle 22 alle 6 dell'indomani mattina. E dunque scuole chiuse in campania fino a gennaio di fatto ed è scontro a distanza tra De Luca ed il Governo, quest'ultimo pronto ad impugnare la decisione del Governatore Campano con un passaggio nella prossima seduta del Consiglio dei Ministri. Il Governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola, quindi l'indirizzo è e resta scuola in presenza e in sicurezza, ha ribattuto il Ministro della Salute Roberto Speranza. Non vogliamo che siano i più piccoli, i nostri figli, a pagare il prezzo di questa nuova fase epidemica. La Campania resta in zona bianca, almeno per il momento. L'ha annunciato il Presidente della Regione De Luca, comunque è un risultato davvero straordinario, ma siamo la Regione più a rischio. Vediamo fin quanto reggeremo. Ascoltiamo De Luca. La Regione Campania rimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario, ma la Campania ha un R con T dell'1,6%, cioè siamo la Regione più a rischio. Vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Per adesso stiamo reggendo, ma siamo fortemente al rischio. Per quanto riguarda il Covid, devo constatare con grande amarezza che l'Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare sostanzialmente niente. Abbiamo bruciato in Italia una condizione di relativo vantaggio rispetto ad altri paesi d'Europa. Ci siamo auto-aisaltati e auto-consolati. Abbiamo perso mesi preziosi senza prendere nessuna decisione seria ed efficace. E siamo oggi nella situazione che era ampiamente prevedibile, che qualcuno di noi aveva previsto. Siamo sopra i 200 mila contagi e non siamo ancora arrivati al picco del contagio in Italia. Abbiamo continuato a seguire la linea delle mezze misure. Abbiamo assunto tempi lunghissimi di decisione. Si approvava un decreto in Consiglio dei Ministri, ma il decreto diventava operativo dopo 15 giorni. A Capri, il consigliere alla Sanità Bruno Dorazzi, in uno con il sindaco Marino Lembo, osserva che l'incremento del numero dei contagiati sull'isola, peraltro quasi del tutto asintomatici, non deve rappresentare un segnale di preoccupazione o di delusione. Un aspetto importante, sottolinea Dorazzi, è la massiccia adesione della popolazione di Capri alla campagna vaccinale, che testimonia la fiducia e il grande senso di solidarietà sociale dei concittadini isolati. E peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese, lo sottolinea il professor Gianni Rezza del Ministero della Salute nel bollettino settimanale. I dati mostrano che Omicron è una variante estremamente contagiosa. Sentiamo. Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese e l'incidenza di casi di Covid-19 raggiunge ormai 1.700 per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra una tendenza alla crescita, siamo intorno a 1,43, quindi benaldi sopra dell'unità e addirittura l'RT ospedaliero è intorno a 1,3. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 21,6, al 15,4%, quindi ben al di sopra della prima soglia di criticità. Questi dati mostrano che Omicron, sebbene in parte meno virulenta, è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa. Per questo motivo è necessario mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto affidarsi alla dose di richiamo di vaccino per prevenire le forme più gravi di malattia. Ed ora il quotidiano bollettino dei contagi. Sul territorio nazionale ad oggi 8 gennaio il totale di attualmente positivi è di 1.818.893 con una crescita di 144.822 assistiti. I deceduti sono 184 in più e il totale sale a 138.881. Il numero complessivo di dimesse guariti sale a 5.323.523 con un incremento di 52.529 persone. Tra gli attualmente positivi 1.557 sono in cura presso terapie intensive con un incremento di 58 pazienti, 14.930 persone sono ricoverate con sintomi con un incremento di 339 pazienti ed infine 1.802.406 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ed ora la situazione in Campania dove oggi si registrano 13.364 nuovi contagi su 119.138 tamponi molecolari eseguiti. Nell'ultimo rapporto di unità di crisi si registrano 9 deceduti nelle ultime 48 ore. In Campania attualmente sono 74 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva mentre sono 961 quelli ricoverati nei reparti di indegenza. Per quanto riguarda le vaccinazioni c'è una nuova occasione per tutti coloro che sono in attesa di completare o iniziare il ciclo di vaccinazione anti-covid sull'isola d'Ischia. Infatti in maniera straordinaria domani, domenica, presso l'Hub vaccinale a Fondo Bosso, a Palazzetto a Ischia, è prevista una giornata di open day che è aperta a tutti. Quindi dalle 9 alle 16 ci si potrà vaccinare e sono disponibili 500 dosi di vaccino. Ed ora cambiamo argomento, andiamo sulla questione del Super Green Pass. A Ischia e nelle altre isole sono in tanti, a dirsi contrarie all'utilizzo del Super Green Pass per i trasporti marittimi in vigore da lunedì prossimo come invece è stato disposto dall'ultimo decreto del governo. Super Green Pass per i trasporti, lunedì il coro dei contrari. Dopo il nuovo provvedimento del governo che ha in aspetto ulteriormente le contromisure al dilagare dei contagi, in tutta Italia si organizzano i movimenti, le associazioni e i singoli cittadini contrari all'utilizzo del pass vaccinale per il trasporto locale e regionale. Ad alzare la voce è stato come prevedibile il popolo delle isole minori, come le nostre Ischia, Procida e Capri, ma anche come Ponza o Pantelleria. Il presidente del Lancim, in rappresentanza dei sindaci di tutte le isole minori, Francesco Del Deo, aveva anche inviato una nota al presidente del Consiglio Mario Draghi. I mezzi di trasporto marittimi e aerei, aveva dichiarato il presidente Del Deo, per le isole minori rappresentano l'unico collegamento possibile con il resto della nazione e quindi precludere l'accesso a tali mezzi di trasporto a partire dal prossimo 10 gennaio a chi non è in possesso del Super Green Pass, significa condannare ad un esilio forzato i residenti sulle isole minori che per vari motivi non si sono sottoposti a vaccinazione anti-Covid. È opinione condivisa da tutti noi sindaci, prosegue Del Deo, che questa disposizione contenuta nell'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale rappresenti una netta disparità di trattamento per noi cittadini delle isole minori, in quanto limitare l'accesso ai trasporti marittimi, comporta di conseguenza una enorme limitazione all'accesso ai servizi essenziali. Anche i sindaci di Capri e Procida avevano condiviso la protesta del sindaco Del Deo, così come anche associazioni e movimenti come il gruppo ischitano Resistere per Esistere, che ha annunciato la sua presenza presso la banchina olimpica del porto di Ischia per lunedì mattina dalle 10 alle 13 per una manifestazione di protesta. Di certo la decisione del governo di imporre dell'uso del Super Green Pass per i trasporti locali e regionali ha un peso specifico molto importante per le popolazioni delle isole minori e chissà che a seguito delle dimostranze che stanno giungendo da ogni parte questo provvedimento non possa essere rivisto. E sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Lacombello Giacomo Pascale sul profilo social. È di una gravità inaudita, scrive Pascale, e non userò giri di parole. Il decreto che entrerà in vigore il 10 gennaio impedirà a migliaia di isolani il diritto alla mobilità, violando probabilmente i principi fondanti della Costituzione e dell'ordinamento europeo. Qui non si tratta, specifica Pascale, di essere si vax o no vax. La questione più banale, chi vive sulla terraferma e per mille motivi non si vaccina può comunque circolare. Sulle isole invece il blocco ai collegamenti marittimi impedirebbe di fatto a migliaia di soggetti non vaccinati di recarsi oltre mare. Credo, continua il sindaco di Lacombello, si possano addirittura essere i presupposti per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo. E tra le isole anche Pantelleria si è allineata alla posizione delle altre isole minori. È una grossa forzatura, i nostri cittadini sono costretti a vivere in esilio sull'isola, ha affermato tra l'altro Vincenzo Campo che è il sindaco di Pantelleria. Sentiamo. E il 10 gennaio, quindi dal giorno 11 in avanti, se non ci sarà nessun intervento e spero che il Consiglio dei Ministri intervenga oggi, rischiamo che alcuni nostri concittadini siano costretti a vivere in esilio sull'isola. È vero, a Pantelleria si vive bene tutto quello che vogliamo, però se mi metti obbligatorio il Super Green Pass, quindi il Green Pass rafforzato come lo vogliamo chiamare, per uscire dall'isola o rientrare all'isola, perché c'è anche quello, in questo caso tu mi stai comunque facendo una grossa forzatura. Perché l'abitante delle isole minori, quindi non solo di Pantelleria, delle isole minori, ha delle peculiarità che non hanno quelli che stanno in terraferma, perché uno che sta in terraferma, che poi è stata la discussione che abbiamo avuto in sede ANCIM, che è l'Associazione Nazionale Comune delle Isole Minori, dove ci sono tutti i sindaci delle isole minori, 35 sindaci, ed è proprio questo. Se io sto in terraferma non c'è l'obbligo vaccinale, quindi se non c'è l'obbligo vaccinale vuol dire che io posso scegliere di vaccinarmi o meno, ma tu non mi puoi obbligare a fare il vaccino, obbligare, ripeto, a fare il vaccino col ricatto che non posso muovermi. Perché io prima mi muovevo col tampone, va bene, e io sono d'accordo, devo essere sincero, sono d'accordo, ma se tu mi dici no, il tampone non basta più, allora qualcosa non torna. E proprio con i sindaci dei isole minori si ragionava lunedì, lunedì o martedì adesso ho perso un po' la cognizione, si ragionava proprio questo. Quindi se io sono in terraferma e non sono vaccinato e voglio, che ne so, sono a Roma e voglio andare a Milano a vedere il Duomo, io mi metto in macchina e vado a Milano a vedere il Duomo. Se io invece sono a Pantelleria o a qualsiasi altra isola minore e non sono vaccinato per vari motivi e mi viene detto, cioè mi viene detto o voglio andarmi, voglio andare a Milano o voglio andare a Trapani, cioè voglio dire a guardare le bellezze di Trapani, io non lo posso fare. Quindi questa cosa è ingiusta e parliamo di questo. E se mettiamo un problema sanitario, se mettiamo un problema lavorativo, per esempio fare un colloquio di lavoro, devo uscire da Pantelleria per andare a fare un colloquio di lavoro, non posso farlo perché col mezzo proprio non ci posso andare. Quindi tutti i sindaci delle isole minori, lo abbiamo anche comunicato noi, abbiamo fatto un documento a firma del Presidente Draghi, con la quale chiediamo al Presidente Draghi, comunque a tutti i politici in generale, qualcuno ha risposto chiedendo a Draghi di intervenire, di cambiare questa norma in maniera tale che non si perpetri una cosa gravissima, perché in questo caso è gravissima. Ma i problemi dei trasporti marittimi sono tanti, i comuni propongono, ma la Regione Campania ignora, anzi concede qualche contentino, ma non risolve i problemi atavici che subiscono da tempo i cittadini delle isole del Golfo. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni Giuseppe Giacquinto del Comitato Pendolari dell'Isola di Procida. Sentiamo. La presa di posizione dell'assessore Mamelle sui trasporti marittimi è stata a quanto opportuna e condivisibile, direi. È chiaro che adesso a questa presa di posizione dobbiamo far seguire atti formali forti da parte dell'amministrazione comunale, da parte del Consiglio comunale, da parte di tutti i sindaci delle isole del Golfo di Napoli. Sappiamo tutti è vero che la Regione Campania ha competenze in materia di trasporto marittimo, ma questo esercizio di competenze va concertato con le amministrazioni locali, le quali a loro volta attraverso l'ascolto di quelle che sono le esigenze dei pendolari, dei cittadini e delle categorie, formano le proposte che più si adattano alle esigenze della comunità che amministrano. Questo non è stato fatto, anche se da parte del Comune di Procida le proposte sono arrivate, ma è chiaro che quando ad un certo punto la Regione invita i comuni, i sindaci, le amministrazioni a prendere parte attiva a questo piano triennale che andrà in vigore dal prossimo anno e che quindi regolamenterà il trasporto marittimo nel Golfo per i prossimi tre anni e quindi regolamenterà quelle che sono le necessarie esigenze di tanti cittadini, pendolari, studenti, lavoratori, gente che si muove per motivi di salute, per l'accesso ai servizi vari in terraferie. Ma dico, nel momento in cui invita a fare ciò e poi le amministrazioni lo fanno e queste proposte diventano carta a straccia, allora un problema, un problema ci sta. E allora non si può, voglio dire, trattare un Comune che presenta una proposta di modifica oraria con altre proposte ovviamente collegate di cui dicevamo poc'anzi, venga ignorato in tutto questo. Le uniche modifiche che vengono accorte nel prossimo piano triennale sono l'anticipo di dieci minuti della partenza per Napoli delle sette, dicevano alle 6.50, una richiesta che è partita da Ischia che ovviamente è stata fatta dagli operatori commerciali di Ischia che avevano necessità di arrivare a Napoli con lo scala Procida in tempo diciamo ragionevole e poi c'è la riscafo sempre delle 21.05, perdonatevi da Napoli, per Procida Ischia, un'altra necessità per gli ischitali, per venire incontro agli ischitali, dato che Alilauro aveva sospeso la corsa veloce delle 20 e 20, anche qui non abbiamo detto niente come Procida perché siamo ovviamente nella piena solidarietà di quelle che sono le esigenze e le frustrazioni insomma di noi isolati, però queste due modifiche tutto sommato per Procida contano quasi zero e quindi diciamo le altre sono state ignorate, non mi pare un bel modo di affrontare neanche l'anno 2022 di Procida Capitale della Cultura, quindi ritengo che la Regione debba ripensarci, ritengo che il Comune debba avere un ruolo forte di primo piano in questa difesa di quelle che sono i diritti dei cittadini isolani. Riapriamo una finestra sulla questione della scuola in Campania, un ricorso in queste ore è stato presentato al Tar Campania per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione Campania. Il procedimento è stato presentato da alcuni genitori difesi dagli Avvocati Giacomo Profete e Luca Rubinacci. Il Presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Bruzzese, ha emesso un decreto con il quale dispone che la Regione Campania esibisca entro le ore 10 di lunedì prossimo 10 gennaio gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell'ordinanza impugnata. In quanto si legge nel provvedimento del Tar l'ordinanza motiva l'esigenza della sospensione che è stata disposta, facendo diffuso riferimento a dati, report ed acquisizioni istruttorie che non sono disponibili agli atti del giudizio, che è opportuno, in ragione della rilevanza della questione, che siano portate all'attenzione del giudicante fin dalla fase cautelare. Quindi lunedì mattina c'è questa situazione in forse che si giocherà davanti al Tar Campania alle 10, proprio il giorno in cui entrerebbe in vigore l'ordinanza di sospensione dell'attività in presenza di alcuni ordini di scuole in Regione Campania. Quindi è una situazione che sembra non essere affatto conclusa. Restiamo a Procida intanto, dove il Comune punta alla rivalorizzazione dei suoi gioielli architettonici. Tra questi spicca sicuramente Palazzo d'Avalos, sul quale l'amministrazione comunale ha investito tanto. Ascoltiamo a proposito l'assessore Antonio Caranante. Dunque il 2022 è sicuramente l'anno di Procida, Procida capitale della cultura, Procida che ha tanti aspetti fondamentali, soprattutto legati alle tradizioni, alle bellezze monumentali. Parliamo sicuramente di Terra Murata, Palazzo d'Avalos, Santa Margherita. Insomma, un fiore all'occhiello che tanto è caro a questa amministrazione e soprattutto all'assessore Caranante. No, vabbè, è caro a tutta l'amministrazione, a tutta la comunità. Procida capitale per quanto mi riguarda e soprattutto un trampolino per il 2022. I fiori all'occhiello di Procida capitale sono appunto il Palazzo d'Avalos che già in seguito alla nostra candidatura, ma anche grazie a un lavoro fatto prima, non a caso è stato destinatario di un finanziamento da parte della Regione Campania, piccolo per iniziare. Abbiamo presentato altre richieste, altre istanze di finanziamento, potremmo dire qualcosa di più. A gennaio ci sarà la digitalizzazione di Palazzo d'Avalos, quindi sarà possibile anche visitarlo grazie alla Regione Campania virtualmente. Quindi è un qualcosa, una macchina che sta iniziando a muoversi. Un altro gioiello sempre di Procida capitale è il Museo Civico. Anche lì la aprirà il 2 gennaio al pubblico. Allo stesso tempo ci sono i cimeli dei procidani che in occasione di Procida capitale le hanno donati al Museo, quindi ne posso essere fiero ancora di più perché si tratta di attività che ho curato in prima persona. Però ripeto, l'obiettivo è proprio questo, al di là degli eventi che ci saranno, fare in modo che Procida 22 sia una scintilla importante per il futuro della nostra isla. Non possiamo tralasciare un pensiero per Vivara? Vivara è in atto una trattativa tra la proprietà, perché è di proprietà privata, e il comitato di gestione in quanto i proprietari richiedono un indennizzo economico. Quindi c'è una trattativa che è in corso, ci potrebbero essere novità a breve e quindi per il momento. Però sono ottimista, nel senso che anche in occasione di capitale della cultura penso che ci possano essere dei buoni svolti. L'Arcicaccia chiama a raccolta le sue guardie. Dopo l'ultimo Consiglio nazionale, il responsabile nazionale Emilio Galano ha avviato una ricognizione delle guardie volontarie di ogni genere e tipo che operano sotto i colori di Arcicaccia. Scopo dell'iniziativa? Un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e protezione civile svolte dall'Associazione e la stesura di un regolamento unico per dare indirizzi comuni agli operatori in tutta la penisola. Lunedì prossimo, dopo il telegiornale alle 21.05, trasmetteremo lo speciale Teleischia Stori, Ischia Perugia, 13 maggio 1994, una partita, una stagione. La trasmissione presenterà il ricordo dei protagonisti del tempo, mister Balugani, Giovanni Martuscello, Gigi Di Baia, Gennaro Monaco, Gigi Desiano e Marco Morrone. La trasmissione riproporrà i momenti più emozionanti di una partita, di una stagione che fanno parte della storia dell'ischiacalcio finita negli annali. Vediamoci questo stralcio. Una partita, una stagione. Questo è il nostro speciale di Teleischia Stori. Parliamo della stagione 93-94, la partita Ischia Perugia. Una partita importante anche perché viene ripresa da Telepiù, finisce sui televisori di tutta l'Italia, ma soprattutto è un Perugia forte, fortissimo, che vuole vincere il campionato. L'anno prima il Perugia è stato vincitore del campionato di C1, però gli fu revocata la promozione per il lecito, per la partita Perugia-Siracusa. Addirittura Gaucci pare abbia comprato un arbitro regalando un cavallo da corsa. Questo è il clamoroso illecito che fa tornare il Perugia in C1, però Gaucci attrezza una superformazione per vincere il campionato e vincerà il campionato. In quel campionato c'era anche l'ischia, l'ischia del presidente Basentini. Ed in quella stagione ben quattro allenatori si sono alternati sulla panchina della prima squadra dell'ischia, però bisogna anche ricordare che parte Rispoli, fa la preparazione lui, poi arriva Alessandro Abbondanza fino alla prima giornata di campionato, dalla seconda Faustinio Canè, dalla nona Pasquale Casale e dalla quattordicesima Balugani che giunge fino alla fine del campionato. Ed ora ci occupiamo di arte, si è conclusa con grande successo la collettiva sfumatura d'arte curata da Elenia Pilato presso il Salone delle Antiche Terme Comunali di Ischia. Vediamo il servizio. La mostra si è rivelata un successo, abbiamo avuto un folto numero di partecipanti, soprattutto durante la serata inaugurale della mostra. Durante gli altri giorni abbiamo avuto altri ingressi, sempre di un numero abbastanza consistente e quindi possiamo ritenerci tutti, me compreso ovviamente anche gli artisti, molto soddisfatti della riuscita dell'evento. Realizzi sempre tanti eventi, questo è il primo realizzato in questo luogo, come è andato in generale il luogo, la location, le installazioni? La location delle Antiche Terme Comunali secondo me è il palcoscenico perfetto per creare prossimi eventi d'arte. Abbiamo ben due sale, una sala grande, Sandra Pertini, che potrebbe ospitare tantissime opere d'arte e anche una seconda sala che si presta sempre all'esposizione di opere d'arte. Quindi io credo che a Ischia sia uno dei posti migliori soprattutto per le collettive d'arte. Quali sono state le impressioni dei visitatori? Le impressioni dei visitatori sono state ovviamente tutte favorevoli e quindi questo è motivo di orgoglio, non soltanto per me come curatrice ma anche per tutti gli artisti partecipanti. Abbiamo avuto dei pensieri proprio rivolti addirittura ad alcuni artisti, quindi ognuno ha espresso anche, se così possiamo dire, le proprie preferenze per quanto riguarda un artista rispetto ad un altro, però tutti comunque hanno avuto dei complimenti, cioè la mostra nel complesso è stata molto apprezzata. Queste collettive servono appunto perché ci sia tutto insieme, si facciano delle cose belle e benvengano. In questo caso, pittoricamente parlando, abbiamo dato un bellà, secondo me, perché ci sono state delle, appunto come dice pure la parodia della nostra mostra, delle sfumature bellissime di colore, voglio dire, è stata eccezionale, dai. Spero non sarà l'ultima importante pure per noi. Oltre a te che sei un veterano del campo, ci sono stati molti emergenti. Questa è una grande occasione per gli emergenti e Ischia ne ha tanti. Secondo te perché ad Ischia c'è così tanta voglia di esprimere arte? Ma perché Ischia è arte, direi l'isola è arte. In qualunque vicoletto ci si addentri, troviamo delle cose inedite, difficilmente reperibili e trovabili da altre parti. Dunque se uno ha memoria, basta una foto visiva e lì subentra l'arte, subentra la passione, subentra il colore. È importante. Poi ci sono anche delle scuole, ultimamente delle scuole più all'avanguardia che fanno sì che appunto un po' tutti quanti tirino fuori quello che c'è dentro, appunto dell'arte. Finalmente ci siamo ritrovati con tutti gli artisti amici del passato perché siamo stati insieme in parecchie mostre degli anni precedenti e questo è di un'importanza particolare dati i tempi che stiamo vivendo. Quindi è stato tutto come una rinascita. Il messaggio che abbiamo voluto dare è stato appunto quello di coraggio e di credere ancora nelle cose belle della vita, appunto per guardare avanti e per ricominciare. E anche in questa magnifica location che potrebbe essere sfondo di tanti altri eventi. Certo, io spero che sia così perché non dobbiamo fermarci solo a questo ma continuare appunto in futuro a fare sempre meglio. Bene, ed ora invece spazio al medio. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili fiovaschi. In montagna cieli nuvolosi con possibili brevi rovesci nevusi. Ci vediamo qui, ci vediamo lunedì alle 14. Buona domenica a tutti. Arrivederci. Al prossimo episodio